buongiorno a tutti sono qui oggi in realtà non c'è né un oggi né un giorno quindi buongiorno buonasera buonanotte oggi domani e ieri dal momento che sto registrando un video un video degli incontri sul senso 2019 2020 lo faccio in questa sede particolare perché diciamo che dopo l'amore ai tempi del colera siamo passati agli incontri sul senso ai tempi del coronavirus potrebbe anche essere vantaggioso dal momento che avrete la possibilità di non guardarlo oppure guardarlo schippando nei momenti noiosi e così via premetto che per motivi ambientali spero che la trasmissione non sia disturbata e dal vento che oggi nel mio presente imperversa e quindi fa un po di rumore ogni tanto e dal fatto che c'è un gatto per casa che ogni tanto gira e fa altrettanto casino due elementi naturali con cui dobbiamo imparare a convivere allora l'argomento degli incontri sul senso di quest'anno sono le facce il mio intervento sarebbe dovuto essere il secondo di che cosa vi andrò a parlare anzitutto rimpicciolirei un pochino la mia faccia e la sposterei qui e adesso voi non mi vedete più però anzi faccio in modo di rendermi anche visibile ok a questo punto dovrei essere visibile e mi rimpicciolisco un pochetto e possiamo cominciare il titolo della mia presentazione è facex macchina volti demiurgici dall'occhio di al 9000 a simone e oltre alla mia faccia in movimento vedete una versione modificata in qualche modo artificializzata del mio volto che di per sé presenta già dei tratti inquietanti o perturbanti il tema del perturbante sarà centrale nel mio intervento odierno che si articolerà secondo queste direttrici mi rimpicciolisco ancora un pochino così vedete bene tutto tanto il mio volto non è importante vabbè lì c'è scritto semi robotics appunto da un lato un'esplorazione della del tema del perturbante dal tedesco unaimlich che scusate la pronuncia tedesca tema usualmente riferito alle discipline psicologiche che però ritengo possa essere visto anche da un punto di vista semiotico che ci può aiutare a capire la rilevanza del fenomeno centrale della mia presentazione cioè la cosiddetta uncanny valley di nuovo un concetto che poi spiegherò con più precisione avanti più avanti ma che in qualche modo ritengo possa essere studiato da un punto di vista semiotico in maniera abbastanza fruttuosa tutto ciò attraverso una grande panoramica in testi in prodotti mediali che vanno dalla letteratura al cinema alle serie tv naturalmente non onnicomprensiva dal momento che come capiamo e capiremo il tema ha portata molto importante e a concludere il rilancio o il lancio di alcune questioni molto recenti nell'ambito di discipline nascenti come può essere la social robotics o la roboetica appunto dicevamo per tutto parte da questo concetto fecondo un po forse sedotto e abbandonato in realtà del perturbante perturbante il quale si usa riferire inizialmente qui cito testualmente feticaba in questo articolo che vedete qui segnalato allo psicologo tedesco ernst jens lo stesso freud citerà poi lo psicologo quando parlerà del perturbante il quale qui traduco dall'inglese feticaba rileva come sostanzialmente il perturbante si manifesti a partire da qualche forma di incertezza che rende difficoltoso a una persona a prendere una decisione stando a jens questo tipo di incertezze possono essere anche di natura fisica e usualmente ci portano a delle domande primigenie del tipo quello che sto osservando è realmente vivo o è realmente non vivo allora la difficoltà nel discernere diciamo questo tipo di cosa genera appunto uno stato perturbante che è una specie di strano disagio appunto generato secondo jens da questo dubbio che è un dubbio primario che è ancora diciamo preliminare rispetto al dubbio se un ente voglia o non voglia farci del male è proprio l'incapacità di definire se quell'ente è vivo o no e cioè di collocarlo all'interno di un orizzonte epistemico ontologico preciso questa spiegazione mi è sempre molto affascinato e persuaso mi è sempre molto piaciuto il modo in cui jens si riferisce a casi letterari per formulare la sua ipotesi che poi in realtà in qualche modo mira ad attecchire all'interno di processi psicologici del reale lui lo fa nello specifico riferendosi a questa storia di hoffman der sandman variamente riferita tradotta in italiano come il mago sabbiolino che è il titolo che ho sempre prediletto ma anche l'uomo della sabbia e così via in cui appunto c'è questa strana storia d'amore nei confronti di una figura femminile la quale genera questa sensazione perturbante proprio perché il suo volto è un volto di bambola con alcune cose molto strane fra cui nel racconto si fa riferimento ad esempio a un certo punto agli occhi alle stesse cavità orbite oculari e così via poi naturalmente jens in qualche modo è trafitto dalla storia e verrà in qualche modo non diciamo dimenticato ma comunque l'immaginario se lo prenderà freud il quale freud appunto declinerà questa idea di perturbante a partire da jens ma non solo darà anche spiegazioni di natura diversa in qualche modo sessuale ma introdurrà il tema del doppio che è un altro tema fondamentale nello studio del diciamo della percezione del volto che non è una questione esclusivamente teoretica letteraria diciamo di da semiotici d'antan ma in realtà poi ha stretti riferimenti anche qui ogni tanto vedo il mio volto appunto con questo pallino che registra ma che ha riferimenti intanto scusatemi solo per capire ok sta registrando sì dicevo questo tipo di questioni poi hanno a che fare sostanzialmente anche con il modo in cui funzionano i software di riconoscimento facciale e con il modo in cui noi nella società collettivamente costruiamo dinamiche molto complesse che hanno ricadute anche politiche ad esempio appunto freud parlava di doppio toran che ugualmente c'è tutto il grande filone aureo secondo me del doppelganger e qualche decennio dopo questo studioso giapponese matahiro mori scrive questo articolo bukimi no tanikensho di uncanny valley che diventerà un articolo iconico un vero e proprio meme accademico nella misura in cui moltissimi inizieranno a citare questo articolo un articolo molto controverso ma che evidentemente intercetta una questione una questione nella quale arriveremo ma vorrei ancora un attimino concentrarmi sulla questione del doppio che appunto pur essendo una questione veramente arcaica pensiamo banalmente al mito di narciso che già in qualche modo introduce la faccenda del guardarsi allo specchio del provare un'attrazione nei confronti del proprio stesso volto del proprio stesso corpo ma poi la storia attraversa ma il tema attraverserà e non si esaurirà mai la storia della produzione testuale e lo farà anche nella storia del cinema che è di mia più diretta diciamo pertinenza dal cinema delle origini come vedremo ma fino al cinema più veramente recente questo è un film dell'anno scorso di jordan peele che è un regista diciamo emergente nel senso emergente nel nel quadro della conoscenza dei registi nel mondo appunto primo lungometraggio noto primo lungometraggio scapp get out e questo secondo lungometraggio che si chiama noi az la cui locandina fa vedere una donna con una maschera la quale maschera però ha la sua stessa faccia e vediamo il trailer e magari lo commentiamo un attimo questo è un classico senti qua che vuol dire got five on it parla di droga non parla di droga è un gran pezzo e niente droga ragazzi segui il ritmo vai così vai così dai ma quanto ce l'hanno grande ibsi ha fatto la barca sta scherzando vero? non sta scherzando ehi mi sa che è l'ora della vodka? eh si dov'è jason? jason! jason! dov'è? credevo che ti fossi perso resta con me e sarai al sicuro c'è una famiglia nel nostro vialetto probabilmente sono i vicini mi fa paura una famiglia? posso aiutarmi? zola mettiti le scorpe se volete darci dentro ci diamo dentro anche noi ma voi che cosa siete? sono noi sembrano esattamente come noi pensano come noi sanno dove ci troviamo andiamo via continuiamo a spostarci non si fermeranno finché non ci uccidono e noi uccidiamo loro fai attenzione e appunto mando avanti così intanto ok qual è l'elemento rilevante è che da un certo punto di vista questo film è un secondo diciamo una suddivisione in filoni un home invasion thriller cioè è un film in cui degli estranei si intrufolano nella casa di qualcuno per per compiere qualcosa di illecito fin anche brutale da un altro punto di vista questi estranei non sono estranei nel senso che sono loro o meglio noi qui c'è anche un proprio un discorso di medesimazione proiezione dello spettatore in qualche modo con vocazione diretta non è loro ma è noi condividono il volto condividono il corpo però in realtà l'enfasi è su questi volti volti i quali sono da un certo punto di vista identici da un altro punto di vista hanno delle sottili differenze più o meno marcate che contribuiscono ad aumentare questo senso di perturbante ad esempio nell'espressione diciamo nei volti negli occhi vitrei spalancati nel modo in cui sono tenuti i capelli abbiamo visto anche il figlioletto che si confronta con un se stesso che però ha il volto sfigurato e così via cioè l'idea che il confronto con il proprio stesso volto non possa che generare un sentimento d'ansia di inquietudine profonda questa luce che vedete dietro di me invece è il mio volto che copre la fonte luminosa e quindi dà questo effetto di aura mistica come dicevo il tema in realtà è molto molto indagato ed esplorato un esempio invece andando al cinema dell'origine è il film abbastanza celebre del student von Prague lo studente di Praga di Stella Rai del 1913 qui anche senza magari vi mostro qualche scena ma la mutolisco il protagonista è questo studente che sostanzialmente vende la propria immagine allo specchio a un a un truffatore un truffatore magico in qualche modo questo era il finale e vendendo la propria immagine allo specchio si si garantisce da un certo punto di vista ecco qua dichiaro di aver ricevuto centomila monete d'oro in cambio delle quali do al signor Scarpinelli il diritto di prendere qualunque cosa voglia da questa stanza quindi è vittima di un di un raggiro e vendendo la propria immagine lui appunto si garantisce del denaro ma si priva di di parte della sua faccia di una parte della sua faccia che avrà il potere di essere autonoma questa idea ci fa capire anche come abbiamo tutti quanti una una sensazione di forte proprietà della nostra immagine e dell'immagine del nostro volto soprattutto c'è un'idea di controllo di esso che si connette in maniera abbastanza cristallina con le teorie sociologiche della faccia e del perdere la faccia perdere la faccia è perdere del controllo sulla propria immagine immagine che da immagine letterale diventa immagine metaforica cioè reputazione sappiamo benissimo oggi quanto ciò sia vero nel caso della web reputation nel caso ad esempio di fenomeni come revenge porn che è pornografia fondata sul derubare non un corpo ma una faccia e la visibilità della faccia che genera l'hating online nei confronti delle vittime di revenge porn e di contro c'è un sacco di pornografia amatoriale in cui persone comuni quindi non immediatamente ascrivibili al jet set della pornografia censurano la propria faccia con vari metodi dalla pixelizzazione alla ripresa del corpo senza volto e così via questo genera effetti di senso peraltro molto interessanti che esulano dal discorso odierno io in realtà potrei parlare dieci ore perché tanto sto registrando e quindi però diciamo lancio qui questa quest'ulteriore questione insomma questo fascino del doppio nei media del doppio del volto è presentissimo dello studente di Praga abbiamo almeno tre versioni in pochi anni è vero anche che intercetta un'era della storia del cinema interessata molto a certi soggetti specie in diciamo quando si entra negli anni dell'espressionismo tedesco ma come vi dicevo c'è l'attrazione e la repulsione abbiamo visto casi di repulsione con AS vediamo casi di attrazione e repulsione qui con questo plus one che di nuovo interpola dei generi ma che vede questo sdoppiamento del volto come un motore narratogeno che rivela degli stati di ansia ma anche di qualche modo accesso a un sé sconosciuto che può anche attrarre qui infatti vediamo nel thumbnail la protagonista che si bacia con se stessa vi mostro il trailer Sì. Sì. You already got here, Jack. What is going on? I have no idea. Wait. Okay. All right. Here we go. I just don't know they're me downstairs. Where did these people come from? Who's out there? Everybody. Everybody's out there and they're down here, too. Oh, my God. I see you. You're looking for Jill just like before. Wait a minute. Everything is gonna happen again? Or we could change them? I want to change. This was the best night of my life. Going down. Who are they? They're us, but they're not us. I just saw Jill upstairs. Which one? I don't know. Let's try this again. Something happened with their power outage. They're gaining on us some time and that means they might catch up to us. What happens if they do catch up? I mean, what does that mean for us? I'm really sorry. For what? Exactly. For making you feel replaceable. I know we only get one chance and every second that passes is gone forever. Where did you hear that? Just give me another chance. How many chances do you get? Then what? Huh? Who's gonna be left? Usher them! We get them before they get us and they won't be catching up with anybody. This party will literally never be forgotten. Ecco appunto che cosa succederebbe se tu potessi incontrare te stesso, uccidere te stesso, amare te stesso, ferire te stesso e così via. Anche da notare come nel trailer di nuovo ci sia l'idea del sono noi ma non sono noi. Quindi tutto ciò si diciamo mescola con il tema del loop anche qui non faccio una marchetta ma dico semplicemente che mi sono occupato già di queste cose. Nel volume Il destino impresso c'è proprio un capitolo dedicato all'incontrare se stessi fra le altre cose dedicato al loop in cui analizzo o menziono alcuni film. Questo è un elenco minimo dei film che tratto ma appunto film anche autoreali come La Gete di Chris Marker, L'esercito delle dodici scimmie, Predestination, L'inquilino del terzo piano di Roman Polanski. In 1408 c'è questa scena in cui appunto il personaggio guarda fuori dalla finestra e vede se stesso nella finestra di fronte. Hypercube, Triangle, Time Crimes, Coherence, Looper e così via. Non è appunto per evitare l'effetto marchetta troppo evidente, non me ne occupo solo io, ma l'idea appunto è che vedere la propria faccia è sempre in qualche modo turbante. Perturbante, Conturbante e così via. E questo è molto interessante, si potrebbe anche fare proprio un lavoro sulle radici che si attribuiscono alla turbazione. Al volto cioè sono affidate delle precise intenzionalità e agentività. Questo è un affidamento molto interessante perché è un affidamento non chiaramente del tutto semiotico, si entrerebbe in un complesso e annoso dibattito relativo a natura e cultura, relativo ai margini del semiotico, all'incidenza del presemiotico, del percettivo sul semiotico, magari qualcosa dirò più avanti proprio nello specifico dell'Anchini Valley. Ma un'altra cosa di cui mi faceva piacere fare menzione era il jumpscare, che è letteralmente diciamo il salto per la paura, il salto sulla poltrona al cinema. Qui scrivo appunto che in gergo filmico è una tecnica usualmente adoperata in certo cinema horror fondata sull'incudere un subitaneo spavento nello spettatore, cioè lo scopo del jumpscare è di farti immediatamente spaventare. Ma in termini di costruzione formale può essere realizzato in due modi sostanzialmente. Molto tipico è che sia preceduto da una sintesi preparatoria, cioè che il film allestisca in qualche modo un set di tracce indiziali che ti preparano al jumpscare, ma è interessante che in termini emotivo-cognitivi questa preparazione non, diciamo, diminuisca il potere, la potenza del jumpscare, ma anzi l'acuisca. In qualche modo sai quello che ti sta per arrivare, per investire, tutto ti è preparato, ma ciò non fa debunking. Poi parliamo appunto di un salto di registro musicale, alcuni elementi scenografici come porte inquadrate in un certo modo, giochi di dialettica di luce e di ombre, così via. Ci sono anche casi in cui il jumpscare è inserito senza che vi sia un sistema di attesa e pregresso, invece. Ma appunto c'è una condizione necessaria, e cioè che il jumpscare si fonda quasi sempre sul volto. Dico quasi sempre perché in realtà ci sono casi in cui non è così, però diciamo che la stragrande maggioranza dei casi è onestamente fondata sull'apparizione di volti, più o meno mostruosi in realtà. Ed è fondata su un'attivazione di una dialettica stretta fra campo e fuoricampo. Il jumpscare richiede che il volto compaia da dove prima non c'era, cioè adesso se io uscissi dall'inquadratura e compaio. In qualche modo c'è tutto un discorso legato al fuoricampo come deposito dell'immaginario, di un inaccessibile semiotico e così via. La tecnica oggi, come molti sanno, non è ben vista perché è considerata una specie di mezzuccio. In qualche modo molti la usano per pregiudicare la qualità o meno di un film horror. Non è in realtà necessariamente vero, nel senso che è una tecnica come ce ne sono tante. È effettivamente una tecnica, cioè è codificata, è chiaramente codificata. Ma se ne possono fare usi più o meno nobili, se vogliamo. È talmente codificata che alcuni casi di successo come questo, Lights Out, si fondano tutti sul jumpscare, sul suo potere. Lights Out è un cortometraggio del 2013 di Sandberg. Non ve lo mostro, ma qui vedete in qualche modo lo spoiler del finale, che è il jumpscare finale, che diventa talmente famoso come corto, a tal punto da sfociare poi in un lungometraggio, quindi con un sistema produttivo più importante alle spalle, nel 2016 dello stesso autore. Il jumpscare, però, può essere anche più complicato. Qui abbiamo, ad esempio, questo film, The Conjuring 2, di James Wan del 2016, che è mediamente considerato come un discreto film horror contemporaneo. Vi mostro adesso, questo che vedete nell'alteprima, è uno dei cattivi, diciamo, una suora indemoniata, con un demone di nome Barak. Vi mostro una scena e cerchiamo di capire come è costruito il jumpscare. Premessa, chi non se la sente, schippa e va oltre. E togliamo la pubblicità. E allora, qui abbiamo già la porta semichiusa, che è un indicatore preciso, che crea un sistema di attese. La dialettica di luce e di ombre, di cui vi parlavo prima. Adesso, onde evitare di commentare, poi dopo magari tolgo l'audio. Qui si è creato chiaramente un silenzio che preannuncia invece un, diciamo, un momento sonoro forte che segnalerà il jumpscare. E che genera questo sistema di nuovo di apprezzione. E qui la protagonista, mi sembra si chiami Lorraine, guarda il dipinto di questa suora. che è un dipinto in primo piano. Dipinto il quale adesso, con quella che io ho trovato quando l'ho visto una soluzione anche abbastanza fine. Ecco, qui appunto è il momento in cui, diciamo, il dipinto si fa scuro. Forse avrà senso che qui avessi messo l'audio. La porta si chiude. Il quadro inizia così a vibrare. E qui c'è questa soluzione molto bella per cui l'ombra senza corpo della suora si avvicina al muro fino a entrare, sostanzialmente a sovrapporsi con il dipinto. E nel momento della sovrapposizione c'è questo bellissimo sorta di realizzazione del tramp l'oeil. Perché due mani fuoriescono da dietro il dipinto, prendono in mano il quadro e gli consentono di staccarsi e attaccare il quadro si anima ed attaccare il personaggio. Ora, è una scena secondo me molto complessa che ho analizzato anche altrove, che appunto rileva, e si tratta di un volto mostruoso, ampiamente studiati anche i volti mostruosi. E' propriamente un jumpscare, non è propriamente un jumpscare, nel senso che qua c'è una costruzione già molto più articolata dello spazio profilmico, c'è tutto un sistema di preparazione, ma è tutta giocata sul fatto che sia poi questo viso ad attaccare, perché il viso è provvisto di un corpo che non c'è, è un corpo ombra. E tutta l'inquietudine è associata all'attivazione e al movimento di questo viso. C'è anche un problema poi di movimento. Infine ci sono proprio i jumpscare poi più chiaramente autoriali, questa è una famosa scena di Mulholland Drive di David Lynch del 2001, in cui questo personaggio riferisce, in un tipico diner americano, di un incubo che ha avuto. Qua c'è un sistema, Lynch utilizza anche una camera quasi mai fissa, nel senso che ha dei piccolissimi movimenti che inquadrano la rappresentazione da un punto di vista onirico. E' un personaggio il quale appunto riferisce di questo incubo, ma poi come succede nel film, i livelli di realtà si ripiegano su loro stessi e non c'è chiaro comprendere se quello che stiamo vedendo sia parte dell'incubo o meno. Il personaggio, poi vado avanti, ha una specie di mancamento, accompagna fuori l'amico, e qui c'è un jumpscare che nessuno si aspettava, ed è la concretizzazione del sogno dell'incubo o del personaggio. Anche qui c'è un chiaro sistema di preparazione, di dinamiche preparatorie, questo campo e contro campo, con il vuoto e così via. Naturalmente questa musica non è parte del film, è chi ha messo il video su YouTube. Il jumpscare è molto interessante perché di fatto è uno specifico filmico. Qui ho scritto Cioè è molto difficile fare un jumpscare scrivendo, perché il jumpscare ha bisogno di alcune componenti che sono specificamente filmiche. Questo è un problema, come dicevo, stimolante, sul volto narrato, basti pensare al lavoro di Patrizia Magli, ma di nuovo lancio questa idea che ho da un po' relativamente alle traduzioni dei volti e delle pratiche e delle semiotiche che essi coinvolgono. E arriviamo a questo benedetto anche a Nivelle, e appunto nell'articolo Mori, e poi cerchiamo di capire perché è collegato a quello che ho detto sinora, nell'articolo Mori propone questo grafico, che appunto è la parte più iconica dell'articolo, veramente tante volte citato, non sempre a proposito, spesso con l'intento puramente di diffondere quello che è ormai, o che è stato in alcuni ambienti, in alcune nicchie, un discorso un po' di moda. Cosa ci dice Masai Romori? Ci dice che nel momento in cui noi ci approcciamo a una macchina, tanto più questa macchina presenta dei tratti human-like, cioè in qualche modo vicini, simili all'umano, tanto più noi proviamo delle emozioni positive di familiarità, ma c'è un preciso punto in cui invece precipitiamo nella valle perturbante, nell'Ancani Valley, ed è il momento in cui la macchina è molto simile a un essere umano, ma ha anche qualcosa che la rende dissimile, cioè il momento in cui ci pone il dubbio. Il grafico ci mostra in effetti come noi non abbiamo dei particolari sensi, delle particolari emozioni positive nei confronti di un robot industriale, ma quando questo robot industriale viene in qualche modo umanizzato, ad esempio nel caso in cui ci siano dei bracci meccanici di cui parla Mori, in una fabbrica che in qualche modo ci assomigliano in qualche modo a delle braccia vere, iniziamo a provare qualche tipo di empatia con la macchina, ma quando poi diventa veramente molto antropomorfa, c'è un momento in cui immediatamente perdiamo questo senso di familiarità, iniziamo a... la poniamo nello stesso alveo dello zombie, del cadavere, della mano prostetica, quindi della protesi della mano, la quale ci potrebbe dare quel senso di disagio, e poi invece c'è un'esponenziale risalita nel momento in cui invece l'imitazione è perfetta, cioè è talmente simile da risultare inconfondibile. Questa zona dell'Ancani Valley è molto interessante perché è la zona del perturbante in cui c'è il problema di Ench del non riuscire di essere percettivamente posti di fronte a qualcosa che non riusciamo a definire chiaramente come vivo o morto, umano o non umano, comunque categorie diciamo primarie di definizione, di categorizzazione della realtà. Questa cosa, tornando al cinema, in qualche modo è simile alla suora, al dipinto della suora di prima che è vivo e morto allo stesso tempo, ma è stata lungamente applicata come categoria nella fase di esplosione del cinema di animazione in CGI, Computer Generated Imageries. Un caso noto è Final Fantasy di Sakaguchi e Sakakibara. Qui è una citazione, forse non la vedete perché la ripresa la taglia, ma di nuovo è Kaba, che parla di questo film, chiaramente ripreso dal famoso brand di videoludico. Peter Travers in Rolling Stone appunto scrisse che il gioco, che il film funzionava bene, ma che si notava una sorta di freddezza negli occhi e una qualità meccanica nei movimenti, che appunto generava questo sentimento di Uncanny Valley, che è un fenomeno veramente che può essere visto non solo da un punto di vista psicologico, ma anche semiotico. Angela Tinwell, in questo libro di Uncanny Valley in Games and Animation, cita una serie di autori, fra cui David Levkovich and Asif Gazanfar, che ci dicono ad esempio che questo fenomeno non è un fenomeno evolutivo, strettamente evolutivo, ma è più un fenomeno di sviluppo. Scusatemi la distrazione, ma il gatto. che è connesso con quello, con il cosiddetto perceptual narrowing, cioè il procedimento relativo all'imparare a discernere diversi tipi di facce, più che altro di forme, nel momento in cui nella cognizione, negli apparati cognitivi dell'infante si sviluppano determinate categorizzazioni, l'Ancherni Valley mette in crisi questo tipo di cognizione, per cui è una mancanza categoriale, è attivato da una mancanza categoriale, e di nuovo è l'idea appunto del dubbio. Questa mancanza categoriale è un fenomeno di confine fra l'interpretativo e il cognitivo, nel senso che ha a che fare con un impatto cognitivo, percettivo, ma che poi vede subentrare degli apparati interpretativi. Lo dimostrano alcuni esperimenti di cui vi parlerò a breve. Tinwell ci dice appunto Che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che oltre al dubbio, alla incapacità di discernimento che sono generate da certi volti, specie dai volti generati artificialmente, come quelli della computer graphics, Il gatto C'è un problema di imprevedibilità, cioè sussegue un problema di imprevedibilità. Il nostro approcciarci all'altruifaccia appunto è l'approcciarci a un dispositivo a cui immediatamente associamo delle intenzionalità, è una agency che in prima istanza è quella relativa al rischio. Allora, chiedo scusa. Ora, non è molto professionale, ma forse è meglio se il gatto sta un attimino con me. Questo associare a un'intenzionalità e a una agency appunto si risolve nel tentare di capire, di predire se questo volto potrà essere per noi segnale di potenziali rischi, potenziali aggressioni o meno. Nel momento in cui viviamo una mancanza categoriale questa imprevedibilità ci pone di nuovo in una condizione di disagio, timore, ma forse anche fascinazione. Un altro esempio è Le avventure di Tenten di Spielberg. Anche qui il film tratto dal famoso fumetto belga ci induce a... Scusatemi Speriamo che non ci siano altre interruzioni di natura immagino tecnica oltre che il gatto che però ora sta prendendo il sole Cerco di fare la riproduzione della depositiva corrente Dicevo, le avventure di Tenten vengono menzionate come di nuovo film che in realtà tecnicamente è fatto anche molto bene ma che ha il problema dice Kyle Buchanan della New York Magazine hanno dei problemi dal punto di vista del design della faccia un design chiaramente un volto artificiale che sembra simultaneamente troppo umano e non umano e la cui faccia è definita come Weirdly Fetal quindi stranamente un po' inquietantemente fetale con uno sguardo vacuo e degli occhi vitrei e poi John Baphos scrive proprio un articolo in cui parla di Uncanny Valley of Doom Insomma il problema si ripropone anche a distanza di anni rispetto al film di Final Fantasy ma già prima forse uno dei casi più noti è questo Polar Express fatto da Robert Zemeckis che è un grande sperimentatore di nuove tecniche qui gira questo film il cui intento è estremamente poetico un grande viaggio natalizio e che è girato con Motion Catcher Technologies quindi sono attori veri che hanno dei vestiti speciali mappati che catturano i loro movimenti cosa che però fare con i movimenti muscolari della faccia è estremamente difficile tenete conto che semplicemente i muscoli che gestiscono i nostri movimenti della bocca sono svariate decine mi correggerà qualche anatomo patologo se ho detto una gastroneria ma le mie ultime letture questo mi hanno confermato e poi c'è sempre il problema dello sguardo qui questo personaggio è in realtà interpretato da Tom Hanks ma l'idea è che ci sia una sorta di cadavere gestito da un burattinaio puppeteering a corpse quindi di nuovo quest'idea della morte non morte vita non vita va detto che le tecnologie più recenti stanno lavorando moltissimo proprio sul discorso dei volti questo ad esempio è un motore grafico si chiama Real Engine della Epic Games che nel 2018 promette di essere veramente rivoluzionario nel campo del design e dell'animazione di volti artificiali generati artificialmente qui ad esempio abbiamo questo video rilasciato dalla Epic Games in cui si vede il paragone fra l'attore Andy Serkis che recita e la traduzione diciamo in un volto digitale e i risultati sono molto molto interessati in questo volto di questo mostro e addirittura qua si tratta di una sorta di easter egg nel sito ufficiale del motore grafico si parla della sua capacità di creare a High Fidelity Digital Replica quindi una replica digitale perfetta e in effetti quello che nel video viene presentato come un confronto in realtà c'era il fatto che lo stesso volto di Andy Serkis è un volto già digitale un volto generato al computer effettivamente guardandolo bene di nuovo soprattutto guardando gli occhi si nota questa cosa ebbene bisognerebbe definire se questa queste nuovissime forme di volti generati artificialmente ancora generino l'Uncanny Valley o no ho il dubbio che però il problema non sia così facilmente risolvibile Claude Rod appunto ci dice come questo concetto dell'Uncanny Valley sia veramente molto controverso e sia stato considerato non scientifico Ferber 2003 opinabile Bartnack 2007 è servito da ispirazione a moltissimi a me stesso oggi ma anche quando non è esplicitamente menzionato l'idea del perturbante che lui attribuisce a Freud il 63 gioca sempre un ruolo quando si devono costruire realmente visivamente volti e enti artificiali esseri artificiali e la cosa interessante è che anche le indagini di mercato dimostrano come quando si tende a costruire a disegnare personaggi caratteri umani ma comunque con forme che non imitano la vera sembianza umana quindi ad esempio molto cartonizzati gli incassi premiano mentre quando si cerca di copiare quindi di fare un cartone animato in computer generated imageries quindi in computer grafica che imita strettamente le sembianze umane di solito l'effetto non è non è premiato anche proprio in termini di incasso perché per qualche motivo il pubblico rifiuta cioè rifiuta il fatto che un cartone animato possa voler imitare le sembianze umane vuole da un cartone animato alcune tipi di codifiche che hanno a che fare con i regimi estetici che attribuisce al cartone animato pensiamo a un caso come gli incredibili il film Disney Pixar dove c'è appunto una famiglia umana sono supereroi ma sono umani e le loro sembianze sono però non realistiche sono corpi oblunghi il padre è molto grosso le proporzioni dei volti sono dissimili da quelle di un volto umano e questo film va molto bene in questo articolo Katsiri Forger Makarainen Netacala appunto mettono in ordine tutta la serie di componenti che in realtà incontrano quello che si delinea come un concetto sempre più complesso quello di Ancanny Valley appunto anzitutto c'è la questione delicata del movimento se il volto sia o meno in movimento c'è il problema della familiarità percettiva quello che abbiamo anche chiamato prima il perceptual narrowing cioè il possedere o meno categorie percettive che ci aiutano a decodificare il mondo associato delle valenze emozionali e poi c'è il problema della human likeness dimension con tutti i problemi di perceptual mismatch implicati i grafici mostrano questi sono grafici tratti da esperimenti che adesso anche commenteremo dimostrano come se l'immagine è in movimento o meno chiaramente cambia un pochino la percentuale di affinità o meno ma non cambia l'andamento cioè l'andamento nei confronti di facce artificiali mostra sempre comunque un avvallamento in un certo momento nel momento in cui il volto è quasi identico all'umano ma ancora non del tutto identico Katsiri e i suoi colleghi inoltre rilevano di alcuni problemi semantici c'è anche un problema proprio traduttivo nel senso che Bukimi no Tanigensho è tradotto come di Ankeni Valley ma da un punto di vista diciamo di lingua giapponese ci sono dei problemi se il termine perturbante Ankeni sia propriamente quello indicato per restituire il concetto inteso da Mori comunque pare che ci sia un'aderenza abbastanza diciamo netta e ci sono varie ipotesi che si intersecano più o meno naif ma appunto rimane anche per Katsiri rimane l'idea che la categorization ambiguity e il perceptual mismatch siano all'origine di questo fenomeno fenomeno che appunto ci pone anche a chiederci da un punto di vista semantico a interrogarci sulla natura stessa della creepiness o eeriness o Ankeniness qui abbiamo ad esempio un articolo di McAndrew e Künke che in realtà poi a un certo punto dopo le premesse prende una tangente che non mi vede assolutamente concorde cioè postula qualche tipo di gender bias all'origine dell'unkeniness in generale e lo fa con metodologie diciamo di ricerca sociale sociologica che secondo me hanno sono diciamo dubbie in alcuni casi ma in ogni caso però hanno ragione nel porsi il problema di che cosa sia realmente la creepiness e lo fanno citando copiose fonti appunto l'ender chandra debarg che definiscono diciamo il creepy come una reazione psicologica che allo stesso tempo è spiacevole e crea confusione che può essere accompagnata da diciamo sintomi fisici come sentire freddo fresco e soprattutto questa idea del fatto che noi abbiamo una specie di creepiness detector in noi e che in qualche modo la creepiness è legata alla nostra capacità di nuovo di fare agency detection quello che dicevamo prima unpredictability dubbio eccetera cioè interpretare nell'immediato le possibilità agentive di quello che ci troviamo davanti idea proposta dagli psicologi evoluzionisti e che però in qualche modo secondo me ha senso anche in ottica semiotica perché perché in realtà andrei direttamente all'esperimento successivo questo esperimento che viene proposto in questo articolo di Mathur e Reiling è un esperimento secondo me molto indicativo i due studiosi mettono creano un corpus di 80 volti selezionati poi nell'articolo è spiegato abbastanza bene il fatto che sono selezionati con specifici criteri in modo tale che le immagini siano quanto più possibile non diciamo non abbiano all'interno qualcosa che può interferire nel loro giudizio fuorché il volto e non le pongono in quest'ordine ma le pongono a un campione di soggetti i quali se non ricordo male sono scelti attraverso il servizio di Amazon Mechanical Turk ponendogli sostanzialmente un sondaggio cioè di valutare questa immagine rispetto alla loro più o meno human or meccano likeness quindi se li sembrano più umane o più meccaniche ma anche valutare il tipo di emozioni che questa immagine gli suggerisce ma anche valutare se ha un'immagine del genere sostanzialmente senza sapere quale tipo di tecnologia la animi si sentirebbero di affidare 100 dollari per un investimento allora anzitutto questo è ciò che risulta in termini di impatto cioè questa disposizione dalla 1 all'80 è una disposizione che è fatta sulla base di diciamo delle risposte alla survey le risposte si sono dimostrate molto coerenti cioè tendenzialmente questo andamento è un andamento condiviso di valutazione rispetto poi alla alle percezioni tutti quanti hanno più o meno dato risposte di nuovo molto coerenti e parrebbe che si generi effettivamente un uncanny valley e cioè che se vedete il mouse ma dovreste vederlo in questa zona che è la zona diciamo in cui la sembianza umana si fa più evidente ma in cui c'è ancora invece un diciamo qualche tipo di componente meccanica c'è un calo di reazioni positive c'è una risposta negativa a livello di impatto emozionale e anche a livello di fiducia percepita cioè il dare o meno 100 dollari tutto ciò è fondato esclusivamente sulla sembianza nel senso che nessuno sa quale tipo di tecnologia quale tipo di software animi il modo in cui verranno gestiti quei soldi ipoteticamente per cui questo ci dà anche l'idea di come la faccia in realtà abbia un potere che poi è un potere che può essere mutato in un potere diciamo retorico questo c'è tutta una retorica del volto basti pensare al volto nella nella propaganda alla mascella mussoliniana che va a costituire un sistema semisimbolico per cui il volto squadrato è il volto di chi ti devi fidare perché hai il pugno per tenere in mano una situazione mentre il volto arrotondato come il mio semisimbolicamente è il volto di una persona lassista o comunque inaffidabile questo esperimento è molto interessante perché dimostra empiricamente sperimentalmente che l'Ankenny Valley è che diciamo l'esperimento mentale di Masairo Mori ci aveva preso e in più si possono aggiungere tutta una serie di cose con le tecnologie odierne ad esempio qui abbiamo Valentin Schwind e Solveig Jager di Ankenny Valley e The Importance of Eye Contact che utilizzano tecnologie di eye tracking e che espongono di nuovo una serie di soggetti a determinate immagini e mappano il tempo di percorrenza dello sguardo sull'immagine dimostrando chiaramente come il centro focale dell'attenzione di un volto è l'occhio gli occhi e la linea continua in alto occupano veramente molto molto tempo rispetto ad altre componenti del volto e anche questo esperimento è fatto su volti diciamo ontologicamente diversi in cui compare anche la CGI le sculture di cera e così via qui abbiamo di nuovo un grafico che ci fa la comparazione diretta dal tempo di osservazione dell'occhio rispetto al tempo di osservazione delle orecchie qua appunto in termini di psicologia della percezione ci sono mille cose da dire cioè la posizione dell'occhio ma in termini semiotici è interessante perché il tempo di osservazione dell'occhio in realtà è il tempo di potrebbe corrispondere che è un tempo diciamo di diversi secondi supera il momento dell'impatto cognitivo e appunto incorpora un tempo interpretativo che cosa si va cercando in quello sguardo probabilmente le idee dello sguardo come contenitore della scintilla della vita molto metaforiche molto poetiche poi sono incardinate in alcune trassi percettive interpretative umane e appunto l'importanza dello sguardo è fondamentale qui abbiamo di nuovo una locandina questo è Dead Silence di nuovo di James Wan quello stesso di The Conjuring della sua ora demoniaca del 2007 ma ci iniziano a in qualche modo fornire delle spiegazioni sulla diciamo sulla su una serie di fobie ancestrali la pediofobia cioè la paura per le bambole l'isoptrofobia cioè la paura per lo specchio e di solito la propria immagine allo specchio ma anche il fatto che lo specchio riveli quello che c'è dietro il volto la zona della nuca che è una zona fisiologicamente inaccessibile al nostro sguardo quindi incontrollabile e che fa del volto proprio anche un dispositivo soglia un dispositivo di confine questi esperimenti confermano alcune interpretazioni oculocentriche da un punto di vista fenomenologico del mondo ci fanno ci fanno chiedere anche alcune domande sull'idea che noi tutti siamo abbastanza consci del fatto che una società in cui viviamo sia piuttosto panottica e in qualche modo mediamente accettiamo pacificamente questa cosa salvo alcune dimostrazioni le avanguardie artistiche eccetera ma quando questo panottismo è associato quindi la telecamera il surveillance o surveillance capitalism è associato a un occhio quindi antropomorfizzato cambia la nostra percezione del panopticon perché in qualche modo ci dà ancora di più l'idea di essere guardati c'è tutto un problema legato allo sguardo come garante ontologico ci sono cose nella fenomenologia di merlot punti riprese da zizek sartre emanuele levinas ponzio che riprende gli studi di emanuele levinas che in qualche modo ci inquadrano questo tipo di fenomeni da un punto di vista simbolico sociale semiotico e di nuovo nel cinema questa cosa è evidente un personaggio come al 9000 è un personaggio che è veramente conchiuso in un occhio un occhio robotico che non si muove tranne per la luminosità più o meno pronunciata che però ha voce a cui noi associamo una fortissima gentilità iniziamo a associare uno stato emotivo Wally il piccolo robottino della Disney Pixar non ha nient'altro che due occhi questa volta espressivi nel senso che già sono appropriati di alcune codifiche legate all'espressività dell'occhio insomma ci sono tantissime componenti semiotiche che possono essere prese in considerazione ci si può interrogare se il volto abbia un sintagma che è un bel problema in termini in realtà di pertinenza nel senso che si è vero il volto ha un sintagma e ha un paradigma questo è chiaro abbiamo gli occhi in un certo punto il naso in un altro quindi c'è una sintassi del volto il naso può essere di vari tipi adunco aquilino e così via e quindi c'è un paradigma del volto il problema è che in termini percettivi probabilmente invece la nostra percezione è abbastanza gestaltica del volto e quindi la sintagmatica della faccia lascia un po' il tempo che trova tant'è che anche in termini di software di riconoscimento facciale sebbene ci siano molte tecnologie che ad oggi sul mercato non è questa idea di ricostruire i volti a partire da una presunta componenzialità non funziona più di tanto però da un punto di vista semantico senz'altro si può costruire un quadrato semiotico ad esempio ponendo volto artificiale volto umano e provando a collocare lì in questi contrari alcune alcune figure e il volto che è artificiale è accettato il volto che è umano è accettato ma il volto che è non umano che sta in relazione di Deissi con l'artificiale appunto è il volto Ankeni mentre il volto che è non artificiale in relazione con umano è il volto accettato questo è il piccolo bambino degli incredibili questo non mi ricordo da quale corto forse Pixar e tratto ma è un altro esempio diciamo in letteratura riconosciuto di volto Ankeni stavo per chiedervi tutto chiaro ma non potreste rispondere e infine c'è oltre a una dimensione sintattica dubbia una dimensione semantica esplorabile una dimensione pragmatica che è appunto l'Ankeni Veli l'Ankeni Veli potrebbe essere l'outcome pragmatico che comporta una modificazione delle comuni pratiche internazionali sia human computer ma anche human human in alcuni musei in cui vengono ad esempio messi volti artificiali su schermi a spiegare a dare indicazioni eccetera questa cosa non solo modifica la relazione fra noi e lo schermo ma anche fra noi e gli altri che ci sono con noi da un punto di vista analitico potrei provare a ipotizzare che il problema sia di tipo anche enunciazionale nel decodificare il pattern del volto sintetico cioè nel capire nell'associare un legame fra la langue della macchina e la sua parole ciò implica anche chiaramente problemi di natura inattivista cioè ci interroga non soltanto ci pone il volto artificiale anche enni ci pone a interrogarci sul proprio stesso volto questo è un problema di nuovo molto complesso che ha a che fare con l'etica delle l'etica della della tecnologia e con il fatto che alle volte le macchine in cui noi ostinatamente pensiamo di dover inserire i nostri apparati etici e i nostri apparati percettivi ci spingano invece a riconsiderare i nostri apparati etici e i nostri apparati percettivi Mori aveva una soluzione semplice beh se così è non spingiamoci troppo in là cioè manteniamo un confine netto fra le nostre sembianze e quelle delle macchine ma in realtà vediamo come alcune tendenze invece mirino a annullare questo tipo di differenze io non so dare una non so e non voglio dare in questa sede un giudizio di tipo valoriale se la cosa sia bene o male ma rilevare come la quantità di problemi di vario ordine e grado implicati in 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 questo nuovo assetto tecnologico e in qualche modo umano transumano postumano del mondo un'altra interpretazione che io suggerisco è quella di una differenza fra una percepita fra una antropomorfizzazione passiva e attiva questo è un esperimento di Heider & Zimmel del 1944 un piccolo cartone animato in cui vediamo questa specie di rettangolone in cui c'è un triangolo grande e poi un triangolino un po' più piccolo e un cerchio e succedono delle cose guardiamolo un attimo di Grazie a tutti. Allora, siamo immediatamente portati a narrativizzare questa animazione, e questo è abbastanza pacifico, in sede semiotica, insomma è un'ipotesi abbastanza comune quella che la nostra comprensione del mondo passi attraverso dinamiche narrative. Ma anche ad antropomorfizzare in qualche modo, cioè noi qui assistiamo a qualcosa che potremmo interpretare come una storia ad esempio di bullismo, di rabbia, una danza, due piccolini che sono aggrediti da uno più grande e così via. Applichiamo, cioè un'antropomorfizzazione da un punto di vista però attivo, nel senso che abbiamo noi il controllo su questa cosa. Esattamente come accade con la pareidolia. La pareidolia è il fenomeno, come abbastanza ormai risaputo, di associazione di determinate forme a oggetti o a immagini che in realtà alla radice non vogliono avere quel tipo di forma. Cioè quando noi in una nuvola vediamo un drago, non è che la nuvola voglia disporsi a forma di drago, ma si attiva una pareidolia. Sono forme di interpretazione in qualche modo, che però alla radice hanno qualche cosa di percettivo, cioè l'immagine ci si presenta così, ma che in qualche modo su cui noi abbiamo, manteniamo controllo, cioè ci rendiamo conto in qualche modo che quella immagine su un toast di Gesù Cristo la vediamo noi così, oppure siamo convinti che sia un'apparizione reale di Gesù Cristo, ma allora in quel caso subentrano altri tipi di procedimenti ideologici, mistici, di cui non mi voglio occupare in questa sede. Cioè l'antropomorfizzazione attiva ci dà un sensazione di controllo, è fondata su un'interpretazione cooperativa fra noi e quello che è in qualche modo quella porzione di realtà che ritagliamo come testo, per essere molto semiotici, ed è alla radice ideologicamente orientata da un punto di vista antropocentrico, cioè l'umanità è in qualche modo il controllo semiosico nel mondo. Quando invece ci si presenta un volto artificiale non pienamente formato, abbiamo la sensazione di subire questa antropomorfizzazione, questa è la mia ipotesi. Cioè non siamo noi ad associare un contenuto umano a qualcosa di non umano e quindi ad avere il controllo di questa associazione, ma questa cosa che è chiaramente non umana, almeno ci è presentata così, ma ci sembra umana e in qualche modo impone la sua antropomorfizzazione. Ed è una frattura ideologica profonda in una delle più, diciamo, importanti basi su cui noi reggiamo la nostra comprensione di noi stessi del mondo e nel mondo. Pertanto, di nuovo, se è una frattura ideologica, in realtà ciò, come dire, è chiaramente anche tessuto poi culturale, semiotico, oltre che percettivo o evoluzionistico. Volti sintetici, naturalmente, non sono solo quelli dei robot, ma sono tutti quei volti che sono rappresentati. Cioè anche un volto su un dipinto è un volto sintetico, in realtà, chiaramente è un volto cinematografico, dove il volto può essere costruito con tecnologie digitali, digitali scusate, ma può essere anche costruito con tecnologie pre-digitali. Un esempio fra tutti è persona di Ingmar Bergman. Abbiamo questo volto un po' asimmetrico, in cui le due attrici vengono sovrapposte, diciamo, con tecnologie pre-digitali e generano questo strano inquietante volto che sembra quasi un volto dopo un ictus, nel senso che una parte ha un naso chiaramente diverso, che sembra cedere rispetto all'altro, c'è una simmetria negli occhi, eccetera. Nel cinema, quindi, veramente, il tema è ampissimo della digitalità, scusatemi, dell'artificialità del volto, c'è anche chiaramente tutto il monster movie, quindi film con mostri, ci sono tutta la fantascienza, veramente, nella slide sono degli esempi venuti in mente così. A livello di filoni, tutto ciò poi sviluppa dei filoni che, di nuovo, hanno veramente una potenzialità simmetrica molto interessante. Westworld, ad esempio, dove di nuovo ci sono questi robot che sono in tutto e per tutto simili agli umani, salvo che poi la faccia è una faccia retrattile, retraibile. Esempio, esempio, nell'uomo bicentenario la raggiunta umanità dell'automa senziente è riconosciuta dallo spettatore nel momento in cui gli si appone la faccia di Robin Williams, una faccia umana, la quale faccia umana viene progettata dal... viene disegnata e costruita dal suo fautore e sembra essere dormiente prima di essere apposta. Anche questo dato è molto interessante. È come se in qualche modo fosse sempre stata lì dormiente, la bella addormentata, e poi apposta al volto si sveglia... apposta al volto inorganico dell'automa si sveglia. Vedete quanto senso c'è dietro questa cosa? Oltre al fatto che è una faccia materiale, c'è una materialità del volto che in qualche modo va di nuovo tenuta di conto. Cioè il volto non è una superficie bidimensionale, ma una superficie tridimensionale fatta di carne, fatta di imperfezioni, porosità e così via. In intelligenza artificiale di Spielberg c'è un discorso molto complesso sui volti, qui c'è un discorso su varie ere dei robot in cui quelli più obsoleti vengono abbandonati e diventano parte di quella che è chiamata la fiera della carne e vengono distrutti da un gruppo di persone radicaliste, integraliste, che predicano il ritorno a un'umanità pura senza i robot che la contaminano. contaminino, qui ad esempio questa è la piccola, questo è il protagonista che ha a sua volta un robot e lei è una robot bambinaia che viene bruciata, il cui volto viene bruciato di fronte al robot bambino e notiamo sempre come c'è questa idea della faccia apposta ma in cui si vedono anche i circuiti dietro sempre dallo stesso film, sempre dallo stesso film questa è una serie degli anni 80, Super Vicky, Small Wonder e qui abbiamo questa piccola bambina robotica il cui volto non è retraibile, è retraibile, è apribile, è un pezzo della schiena che viene mostrato soltanto per farci intendere perché ha un effetto attrazionale diciamo e perché ci dà prova che lei sia un robot ma in realtà non ne avremo bisogno perché il suo sguardo è costantemente vacuo questa bambina è incapace di gestire la pragmatica canonica tradizionale quindi non sa stare in una conversazione, ha dei problemi nel capire i giochi di parole tutto ciò anticipa di molto poi i problemi con cui ci saremmo dovuti confrontare ad esempio nella sentiment analysis, cioè nel porre, nel dare a un software un set di big data, di tweet e nel fargli interpretare l'ironia cosa molto complicata ecco questa bambina già non aveva le competenze pragmatiche per interpretare l'ironia mi inquietava molto da piccolo non credo inquietasse solo me, questa è una scena molto divertente di Family Guy in cui in qualche modo si capisce come c'era qualcosa di profondamente sbagliato in questo piccolo volto non so perché, non so perché, scusatemi, si sia interrotto il video vuoi che non si vede il video? insomma si è visto male, in ogni caso lui spegne il robot bambina lei gli dice buonanotte, ci vediamo domani e lui fa no, cioè non ci vedremo mai più perché c'è qualcosa di sbagliato in te vorrei terminare questa, non so più quanto lunga, presentazione parlandovi di alcune, diciamo, ulteriori direzioni che può prendere una ricerca settata sui volti artificiali e sul rapporto fra l'artificialità e l'umanità in qualche modo l'artificialità presuppone l'umanità e non è detto che sia viceversa nel senso che l'artificialità necessita di un'umanità che la crei e c'è quindi sempre qualcosa di prometeico prometeico o demiurgico nel volto artificiale nel senso che questo volto a cui noi poi associamo o che lui ci costringe in una forma di antropomorfizzazione passiva ad associare un'umanità a un creatore definito questa idea è esplorata molto bene da questo film Simone dove abbiamo un regista è un film molto metacinematografico abbiamo Al Pacino che interpreta questo regista che se non mi ricordo male si chiama nel film Victor Taransky il quale per una serie di vicissitudini si appropria di un software che è in grado di generarle il volto di questa attrice bionda Simone che è un volto che risolleva la sorte di questo regista in fallimento rimandandola alla ribalta questa attrice virtuale diventa immediatamente molto famosa nessuno tranne lui sa che si tratta di un'attrice virtuale e in qualche modo però non c'è una intelligenza dietro questo volto tutto quello che fa è gestito dal regista che è appunto un regista esistenziale vediamo questa scena molto bella il regista è Andrew Nichol vediamo come quello che è usualmente un set cinematografico pieno di cose è ormai ridotto a una sedia vuota con il nome dell'attrice è un computer in mezzo il regista accende il software io non capisco perché si veda a scatti che si chiama Simulation One e diventa Simone questo è l'espediente e qui era importante che si vedesse ma invece non si vede bene insomma quando il programma viene acceso ecco il volto di Simone nasce con questa spirale che ci fa vedere chiaramente come dentro non ci sia nulla allora però se si vede così ha poco senso buongiorno Simone buongiorno 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 una stella è digitizzata buongiorno Do you know what this means? We have stepped into a new dimension. Our ability to manufacture fraud now exceeds our ability to detect it. I am the death of Rio. Death of Rio. Death of Rio. Death of Rio. Too much Meryl Streep. C'è troppo Meryl Streep, ha detto. E vediamo come è veramente in questo caso un volto componenziale. Composto da parti di volti o di espressioni di altre attrici. Molto. While we're at it, there's a little something I want to add to your repertoire. E anche di attori. Remember that thing Audrey Hepburn does in breakfast at Tiffany's? Aruello? Comprimere bene. Comprimere bene. E così. Comprimere bene. Molto. Molto. Oh, l'amore! I'm so relaxed, 巴at. Mentre lui parla Questo volto è Questo è molto indicativo Il volto è in questo sfondo nero E ruota guardando nel nulla Come se fosse veramente sospeso E soltanto lui a attivarlo E anche a creare questo gioco delle parti In cui dice Lui chiaramente in un delirio di potere Che poi gli si ritorcerà conto Ecco anche perché il tema del Giano del Prometeo A un certo punto questo volto Di cui lui pensa di avere totalmente il controllo In qualche misura prende la vita Non perché acquisirà Diciamo competenze O capacità di azione diretta Ma perché gli spuggirà dalle mani Cosa simile accade In In questo altro film Che è Ex Machina Dove c'è quest'altra scena Che io tenterò di mostrarvi Ma secondo me di nuovo andrà a scatti Ehi 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 Vuoi vedere qualcosa di cool? Qui è un genio Che ha creato Una vera intelligenza artificiale Con sembianze realmente umane Che mostra A quest'altro personaggio Il laboratorio dove ha fatto ciò Qui si è stoppato Ci interessa poco Ma la prima cosa Che va a osservare il personaggio Sono effettivamente i modelli di facce Molto simili a quella di Robin Williams Nell'Uomo Bicentenario E lui qui gli sta dicendo Adesso non mi ricordo bene Ma andiamo avanti Non ha idea di quanto è stato problematico Fare queste facce Solo dopo Gli mostrerà come ha fatto il cervello E anche qui c'è questa idea Demiurgica Logica E di potere E lui appunto Si convince Di essere il padrone Di queste creature Che però A differenza di Simone Hanno anche un'intelligenza Installata E Gli andrà Gli andrà storta Diciamo Senza voler Eccessivamente fare spoiler Visto che il film è Un po' più recente Un ulteriore grande tema È quello della resurrezione digitale Sperimentata ad esempio In Star Wars Rogue One In cui Peter Cushing Che in realtà muore nel 94 Viene resuscitato Digitalmente E quindi il suo volto Torna a prendere vita Questa cosa La Disney la fa O forse non era la Disney Ancora all'epoca Penso di sì Vabbè La produzione la fa Anche come esperimento Per capire come il pubblico Avrebbe reagito Quindi c'è l'idea Della fantasmaticità Del volto E in tutto ciò C'è infine Il tema Cioè Spero di avervi fatto passare La quantità Di Di tematiche Estremamente complesse Anche importanti Che sono implicate Dalla connessione Fra il volto All'intelligenza A Diciamo A quella che Tony Belpaeme Parlando di questo Robottino Alize Chiama la Human Face of Robotics Nel senso che Già oggi ci sono Applicazioni reali Fondate sulla Diciamo Antropomorfia O morficità o meno Dei volti robotici Io trovo molto interessante Finire con il caso Di Sofia Che è questo Ormai Robò con una Volto artificiale Famoso Nel senso che È un robot Che è ospite di programmi Lo abbiamo spesso visto Nel late show Di Jimmy Fallon Che è una specie Di Siri Se vogliamo Di Alexa Di Google Home Cioè si comporta Come un assistente vocale Gli parli Ti risponde Ma ha dei tempi Di risposta Lenti Ha un set Di risposte Più o meno Evasive Cioè risponde Su Diciamo Su una serie Di informazioni Precise Da risposte Precise Su altre Ha una specie Di comicità Innestata E che però È un robot Che ha ottenuto La cittadinanza Saudita Che è stato Il primo robot Ad avere Un premio Dall'ONU Ma che è di fatto Un chatbot E di nuovo Tutto il suo potere È dato Da questo volto Ed è interessante Perché Sofia Non viene mai Presentata Con una parrucca Ma viene sempre Presentata Con questa calotta Cranica Visibile Il suo volto È vero È un volto Molto simile All'umano Ma comunque Il problema Dell'occhio Il problema Della motilità Muscolare Della faccia Eccetera Rimangono Molto evidenti E insomma È un esempio Di nuovo Di come Il suo Di come È la presenza Di questi Nuovi attori Che sono poi Attori inseriti Nella socialità E che In un ipotetico Futuro possibile Saranno sempre più inseriti Modifichi Fortissimamente I nostri rapporti Con gli altri Con l'altro È niente più Che un È niente più Che un chatbot Ma ci fa ridere Ma partecipa Alle trasmissioni televisive Ma la troviamo interessante È esotica E così via Io Avrei finito qui Vi ringrazio Se avete resistito Fino alla fine E ci vediamo Fuori dalla quarantena Alla fine Alla fine Alla fine Alla fine Alla fine Alla fine S forgotten Alla fine Alla fine Dès